Per costruire un futuro bisogna pensare e bisogna stabilire quali sono i valori ai quali ci si vuole riferire. Questo accordo che parla di sostenibilità è un qualcosa che getta veramente le basi per una ripartenza vera, il chiedersi veramente quali sono quei valori di riferimento sui quali vogliamo costruire il nostro futuro. Sostenibilità, questa la chiave di volta per le imprese, così la Camera di Commercio di Arezzo e Siena ha lanciato un corso di formazione rivolto proprio alle aziende dal titolo Strumenti e Modelli Operativi di Sostenibilità per la Rigenerazione Economica. Quello che abbiamo sofferto a livello economico, sociale e personale in questo periodo ha creato questa energia positiva, si parla di questo nuovo termine, coesione. Ecco, dentro questo bel circolo positivo di coesione, che intende appunto tutto, ci sta competitività, perché le ultime indagini di Union Camera Nazionale dicono che le aziende che hanno più coesione sono quelle più competitive. Il progetto formativo è nato dal protocollo d'intesa tra Camera di Commercio, ordini professionali della provincia di Arezzo e Università di Siena. Tutti abbiamo la stessa idea, cioè quella di collaborare sulla sostenibilità, sulla sostenibilità economica, ambientale, finanziaria, dei processi, delle produzioni. L'iniziativa si articolerà in 11 lezioni da settembre a novembre 2021. La sostenibilità non è solo un fine aziendale, ma è anche uno sguardo al futuro per mantenere quell'equità intergenerazionale, ovvero per lasciare i nostri figli e il mondo come lo abbiamo lasciato.